Musica Ciao a tutti ragazzi, benvenuti su questo nuovissimo video di Black Ops 2 Oggi saremo la classe Pompi, no Ehm, perché ha il pompa Ehm E niente, dai Già uno che mi ucciderà sicuramente Ecco appunto Ehm, sto a livello 10 perché è da poco che ho questo gioco Ehm Ehm, è da poco che ho questo gioco Poi qui è più difficile salire di livello Non siamo su Black Ops Ehm, due Black Ops 1, giochi simili Oh merda, 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 merda Ora andiamo a battere questi Ehm Non so Bam Oh Che Che chiape Non l'avevo visto nel buio Ok Allora Boom Ma che cavolo Boom Ecco Boom Sta cieppa Comunque Visto che nello scorso video ho detto che usavo il pompa Io in questa classe userò In questa classe Sì No In questa partita userò il pompa Poi che ne so Se volete posso fare anche video di zombie di questo gioco Dove è nato Dove Questo gioco è dove è nata la modella zombie E io l'adoro Ehm Purtroppo ho solo la mappa Naci dei rune totem Perché devo comprare Del Rai, Sveruk e Shinonuma Molotov Boom Ehm Vabbè Potete darmi degli obiettivi Pure farò anche video di Black Ops 1 e 2 Zombie Sì zombie Ehm Potete che ne so Darmi degli obiettivi Che ne so Ora ve ne faccio un esempio A caso Ehm Gioca Cioè Fai un'intera partita zombie Che Riesce A round che riesce a arrivare Ehm Usando solo Solo morto Usando Solo la pistola Vabbè Sì se ti finisce La pistola è un'arma Che dite voi Che ne so M14 Olimpia Beh sicuramente La modificherò Perché Quell'arma Che ne so Tipo Black Ops 2 Comincia da round 20 Senza magia Con i cani Che ne so Cioè Datemi degli obiettivi Per la modalità zombie Di Black Ops 2 O Black Ops 1 Perché qui non credo Possiede darmi degli obiettivi Ok ragazzi Scusatemi Io cambio questa classe Perché faccio No no la lascio Perché tutto Me la usavo Comunque Ehm Niente Sto facendo Abbastanza schifo Che cosa faccio Ehm Sì Sì Abbastanza schifo Ehm No 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 Di merda Va bene Ok Allora Sono un po' Cioè Non proprio però Cioè Sono un po' Negato Perché io sono abitato Oh No sono morto Il bello è che qui I cani ti uccidono Con due morsi Cioè il primo ti danneggia Il secondo ti Ti uccide Ehm E come vedete sotto C'è l'immagine del cane Che sembra un orso nero Troppo di cortenza Ora questo lo uccido Con una bella pompata Ecco Così Ti levi dalle Balle Ehm E ora cerchiamo Di trovare qualche nemico Ed ucciderlo Io su questa Questa qua è una delle mie mappe preferite Però io qui Uso di solito Il mitra Ma pazienza Allora Se magari Trovassi qualcuno Mordov Oh yeah Ma dai Me l'hai fatta spiegare Negro E vai Quante molotov ho? One Una Una What the Dove Che c'è che c'è quello? Vabbè Ho solo una molotov Ehm Niente Comunque Mi dispiace Cioè Mi dispiace Per chi ci invia i video Troppo lunghi Non l'ho posito Cioè Non mi ricordo Che dove era Come si chiamava Danny Qualcosa Sorry bro Ora controllo un attimo Domi Messi 9 Mi dispiace Per non aver caricato subito il tuo video Non so quando caricherò il tuo video Però lol Perché Mi sono accorso Cioè l'ho caricato Ci ho messo un'oretta circa L'ho caricato Tutto a posto Però Quando sono andato a vederlo Diceva video rimosso Troppo lungo E ho notato che Non abbiamo sbloccato il limite Dei 15 minuti Quindi Mi dispiace Cercherò di L'ho sbloccato adesso Con il numero di mio fratello Perché il mio l'ho usato troppe volte E cercherò di 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 caricarlo il prima possibile Chissà quando caricherò questo video Sinceramente Sicuramente Ehm Dopo Dopo Cioè Sicuramente dopo quello di Domi Messi 9 Perché Quello là ci metto 2 secondi a caricarlo Questo qua devo poter renderizzarlo Vabbè pazienza Sto cercando qualche argomento Di cui parlare Non è vero? Comunque ragazzi Ora potete anche inviarci video Lunghi Sui 15 Sui Più di 15 minuti Perché L'ho sbloccato Appunto I 15 minuti E Che non lo sapevo E quindi E quindi niente È bello Ok Ora C'è un cane Vieni qua cane Vieni No 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 Ok Ok Tutta fortuna Ragazzi Tutta fortuna Non è vero Perché i cani Sono delle Rotture Di balle Cane di merda Ok No sinceramente Io non trovo nessuno Mi sto Un po' Rompendo Qui c'era un cane No è un uomo Vabbè muore lo stesso Camper Camper ti ho visto Nel buio Nella nebbia Lì Nascosto In quell'angoletto Come un Frash Ok Mi è sembrato Di vedere qualcuno Non è vero Invece si Boom Yeah Ok Allora Io Spero di aver chiuso abbastanza Cioè ho chiuso tutti i programmi Tranne quello per registrare la mia voce E quello per registrare il video Però spero che non laghi L'au Boom Ma che mira Al Al Ok Comunque Spero Oh ciao No No dai Volevo ucciderlo No dai Che tristezza Comunque LOL Comunque Spero che questo video vi sia piaciuto Spero di Che l'audio si senta Perfettamente Ora il gioco Il mio devo sincronizzarlo Però ragazzi Io vi saluto Spero che il video vi sia piaciuto Vi invito a lasciare un bel mi piace Vi invito se volete ad aggiungermi su Xbox Live Il mio nome è scritto così X è grande X piccola Dei mortali X piccola X grande Dei mortali Tutto grande Lo zero Lo zero Lo zero Lo zero E la piccola Ehm Vi invito a Iscrivervi a La Nox A iscrivervi ai canali Di tutti i membri E io vi saluto E ci vediamo al prossimo video Ciao 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 ciao